Kanyaman contro l'assedio dei fan, la decisione per la sua sicurezza. Ciao a tutti gli amici di YouTube. Spero che stiate tutti bene e che la vostra giornata sia piena di sorrisi. Voglio ringraziarvi per il vostro continuo supporto al nostro canale. Senza di voi, non saremmo qui a condividere la nostra passione con il mondo. Oggi parleremo della crisi di Kanyaman per colpa dei fans. L'attore turco Kanyaman ha deciso di prendere una drastica decisione per preservare la sua privacy e sicurezza. Si è rivolto alle autorità competenti per denunciare il costante assedio dei suoi fan. La star, famosa per i suoi ruoli nelle serie televisive, ha dichiarato di non poter più vivere a Roma a causa dei numerosi ammiratori che lo seguono ovunque, rendendo la sua vita impossibile e facendolo sentire in pericolo. La situazione è diventata così insostenibile che Kanyaman ha dovuto prendere la difficile decisione di trasferirsi all'estero. Questo non solo comporta un cambiamento di casa, ma anche un cambio radicale nella sua vita quotidiana. L'attore si sente costantemente osservato e seguito, con gli ammiratori che cercano di entrare nella sua sfera privata senza rispetto per la sua intimità. La scelta di lasciare Roma e cercare una nuova dimora all'estero è stata motivata dalla necessità di ritrovare una vita normale, lontano dalle costanti intrusioni dei fan. Kanyaman desidera vivere senza paura e senza sentirsi minacciato ogni volta che esce di casa. Vuole avere la libertà di camminare per strada senza essere seguito da una folla di persone che cercano un selfie o un autografo. Questa decisione drastica ha suscitato grande scalpore tra i suoi fan, ma l'attore ha sottolineato che è una scelta necessaria per il suo benessere mentale e fisico. Nonostante l'amore e l'apprezzamento dei suoi ammiratori, Kanyaman ha bisogno di un po' di respiro e di spazio per sé stesso. Mentre l'attore si prepara a intraprendere questa nuova avventura all'estero, i suoi fan dovranno accettare che il loro idolo ha bisogno di un po' di tranquillità. Kanyaman spera che questa decisione possa essere rispettata e che i suoi ammiratori capiscano che la sua sicurezza e felicità sono fondamentali. In conclusione, Kanyaman ha deciso di denunciare il costante assedio dei fan alle autorità competenti, poiché la sua vita a Roma è diventata insostenibile. Questa scelta drastica gli permetterà di vivere una vita normale lontano dalle costanti intrusioni dei suoi ammiratori, preservando la sua privacy e sicurezza. Grazie per ogni like, commento e condivisione. Siete davvero fantastici! Continuate a seguirci e a iscrivervi al nostro canale per non perdere neanche un video. Vi mando un grande abbraccio virtuale e vi auguro una splendida giornata! Grazie a tutti! Grazie a tutti!